Checkpoint Charlie, episodio 13, libertà di Wargame Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e benvenuti a Checkpoint Charlie, alla nostra nuova puntata di Checkpoint Charlie Ricominciamo con il nostro podcast, intanto io come sempre comincio con i ringraziamenti a tutti per i bellissimi commenti, suggerimenti, contatti anche le domande, le impressioni che avete messo, avete espresso sul mio canale riguardo a tutti i vari miei video, alle dirette abbiamo cominciato con le clipping nights, quindi con tutte queste occasioni di incontro poi abbiamo continuato con le recensioni, poi ci sono anche come sempre gli spazi su TGCon24 le strisce che periodicamente do al nostro carissimo amico Dan Pancaldi su No Enemy's Here più gli articoli, il gioco, quindi come vedete continuiamo il nostro percorso di esplorazione del mondo, dell'universo anzi, fatto da tanti mondi dell'universo, del wargame, del gioco di simulazione storico e veramente lo esploriamo in tutti i suoi vari aspetti che sono veramente tanti, che sono molto veri e grati e però in questa puntata di Checkpoint Charlie, nel nostro posto di guardia andiamo a parlare anche di quegli aspetti che sono un po' più, diciamocelo, un po' più controversi un po' più difficili perché vedete io ho aspettato un po' a fare questa puntata anche a seguito di alcuni contatti privati che ho avuto con alcuni ascoltatori, amici, eccetera alcune impressioni che ci siamo scambiati liberamente tra di noi su determinati eventi che adesso sono un pochino più lontani nel tempo questi scambi li ho avuti proprio a caldo, proprio mentre questi eventi succedevano e ho voluto lasciar passare uno, due, tre mesi anche proprio un attimino per far sbollire un po' anche un po' le varie discussioni che si erano create e sono eventi che hanno un po' attraversato il mondo del gioco e hanno imposto delle riflessioni su temi particolarmente importanti temi come la discriminazione razziale, la memoria storica come trattare determinati argomenti ma anche l'inclusione nel mondo del gioco veramente insomma tutto questo grande ambito di tematiche, di argomenti che sono importanti che sono veramente molto rilevanti e che in effetti hanno colpito un po' tutti gli aspetti della cultura, in particolare della storia, del modo di raccontare la storia, di analizzare la storia di spiegare la storia e che inevitabilmente dovevano colpire anche quel aspetto, quel mondo culturale che è il gioco in particolare poi noi del gioco di simulazione storico con tutti questi argomenti beh, ci facciamo i conti un po', un po' ci abbiamo fatto il callo, diciamoci la verità perché insomma un po' da sempre veniamo un po' visti ah ma voi siete quelli che giocano alla guerra, ci sono i giochi dove ci sono i nazisti dove ci sono i confederati, quindi gli stati del sud oppure sono giochi che trattano gli argomenti complicati o addirittura sono anche giochi che trattano gli argomenti storici, bellici ma lasciano da parte tematiche difficili, complesse come possono essere state, come può essere stato l'olocausto, i bombardamenti strategici sulle città, i massacri di civili da una parte e dall'altra, eccetera e spesso veniamo accusati un po' quando va bene di una certa indifferenza storica quando va male addirittura di essere guerra fondata e militaristi o addirittura parteggiare per una parte politica piuttosto che per l'altra con accusi di regressionismo e quant'altro però vedete, noi dei wargame, diciamoci la verità noi del gioco storico, un po' l'ho detto, ci abbiamo fatto il callo, ci siamo abituati ma per me e da altri è stata facile profezia dire guardate ragazzi che anche voi degli eurogame, del mondo del boardgame generico sarete ben presto colpiti da tutto questo anzi, siccome noi wargamisti, noi del gioco storico in fondo siamo soltanto una nicchia siamo poco importanti anche a livello di presenza sociale e anche di diffusione capillare ma anche di interessi economici come è giusto che sia perché il nostro settore commercialmente è molto più ridotto fate attenzione perché voi invece degli eurogame, dei boardgame siete molto più esposti siete molto più in vista quindi è chiaro che ben presto certe polemiche si sposteranno soprattutto nel vostro ambito facile profezia perché è quello che si è avverato poi parleremo anche in quali casi un po' specifici tutto questo si è avverato però ecco appunto io ho voluto lasciare allora da un lato non volevo lasciare passare così in cavalleria tutti questi argomenti che hanno impegnato molte discussioni nei mesi scorsi e che ovviamente anche adesso ma è come è normale stanno tornando fuori stanno tornando alla ribalta è perché è normale perché questi argomenti non è che spariscono ci sono, esistono però dall'altro punto volevo evitare di subito buttarmi in mezzo nella polemica proprio nei momenti di massima virulenza di questa polemica perché vedete questa puntata non vuole essere polemica io non voglio prendere le parti di uno o dell'altro è giusto, non è giusto la statua che viene abbattuta la citazione che non viene fatta il certo autore che non viene più nominato perché ha fatto un post che poteva essere equivoco poteva essere amico io non voglio adesso prendere una posizione perché poi ognuno ha le sue posizioni io lo ho anche espresse le mie posizioni sono molto serene molto tranquille me lo dico subito è che poi certi argomenti dovrebbero essere trattati con una certa cautela non così in maniera così approssimativa ha detto questo allora pensa X non ha detto quest'altro allora pensa Y oppure questi erano tutti buoni questi erano tutti cattivi c'è un discorso molto più approfondito da fare e molto più particolareggiato però appunto anche senza voler prendere posizione volevo un po' farvi parlare con voi chiacchierare con voi di come il gioco in particolare il gioco di simulazione storico ma non solo affronta queste tematiche scottanti ma soprattutto quanto debba essere debba rimanere continuare ad essere libero di affrontarle senza aver paura oddio non posso mettere questo pezzo nel gioco perché sennò offendo questo gruppo oppure non offendo quest'altro oppure devo peggio ancora devo mettere quest'altro pezzo nel gioco perché così non va perché così mi mostro egualitario inclusivo e quant'altro anche se non ce n'è una necessità o addirittura devo introdurre delle distorsioni poi soprattutto se parliamo del gioco di simulazione il gioco è qualcosa di tanto semplice quanto complicato però è soprattutto questo poi lo ritroveremo alla fine oizenga ci ricordava che è qualcosa di libero essere libero significa non solo non avere dei pregiudizi negativi non voglio non voglio parlare male di questo eccetera ma non è neanche avere dei pregiudizi positivi devo parlare bene di questo devo inserire questo aspetto no il gioco è libero esattamente poi se il gioco è simulazione storica la ricerca storica deve essere libera deve essere critica non deve essere troppo di parte ecco però deve deve poter essere libera di spaziare e di affrontare determinati argomenti così come ritiene più opportuni poi ciascuno starà poi a giudicare il valore sia dal punto di vista storico se si tratta di una simulazione che dal punto di vista ludico si tratta semplicemente di un board game o di tutte e due se si tratta di un gioco di simulazione appunto poi dopo starà ai singoli poi a valutare tutto questo concentriamoci un attimo sul board game e partiamo da lì non è un caso allora esattamente come il kregishpil moderno nasce in Prussia per tutta una serie di ragioni sociali di utilità da parte dei militari tutte queste cose storiche che ci siamo sempre detti non è un caso se il board game moderno così come lo intendiamo noi nasce invece negli Stati Uniti prima professionalmente dagli esperimenti della reincorporation che un po' semplifica venendo di più essenziale le simulazioni che già venivano utilizzate nelle forze armate poi dopo arriva Charles Roberts che lo rende per tutti perché nasce negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti bene o male c'è quest'idea poi le volte viene realizzata le volte no ovviamente anche gli Stati Uniti sono un paese da mille contraddizioni lo sappiamo benissimo quest'idea dell'approccio libero di un approccio allo stesso tempo scientifico un po' statistico la realtà ma anche di una libertà personale war game in ogni casa il war game per tutti il war game per i civili non solo per i militari nasce si basa su questa idea di diffusione di una libertà di critica di indagine storica di visione storica che poi magari soprattutto i primi war game erano più vicini al cinema che alla ricerca storica va bene ok d'accordo però andando avanti si è mantenuta questa idea dell'autore che dice io voglio rimanere vicino alla realtà storica almeno per come la vedo io di tutte queste cose un po' di questa libertà del war game libertà di war game ma soprattutto questo anche del suo po' questo suo scandalo questa scandalosa libertà del war game ne ho parlato anche in un articolo in un passato numero di Parabellum che vi ci rimando cioè il fatto che effettivamente questo crea problemi perché il war game vi dà un modello non neutro perché nessun modello è neutro perché ovviamente l'autore sceglie i parametri sulla base delle sue valutazioni e tutto quanto però diciamo vi dà un modello che poi può andare da una parte o dall'altra e vi lascia per ora la libertà a voi giocatori di fare delle scelte cioè non vi va ad incanalare in una direzione oppure in un'altra ecco perché di nuovo nel bel libro mettere in gioco il passato io ho nel mio contributo ho considerato il war game come una forma di public history diffusa cioè un approccio alla storia all'analisi storica sì d'accordo come la public history divulgazione è quello che volete però essendo fortemente interattivo e poi svincolandosi da momenti pubblici da eventi prestabiliti da lezioni in lezioncino oppure da grandi eventi ma entrando nelle case sera dopo sera settimana dopo settimana diventa un approccio libero e individuale voi scegliete i war game sui giochi di simulazione storica sugli argomenti che voi preferite con le impostazioni che voi preferite che sembrano più interessanti e questo lo fate in maniera totalmente libera e individuale senza che nessuno vi obblighi per questo io dico sempre non fatevi dire dall'alto a questo è un war game questo non è un war game questo è giusto questo non è giusto sì fatevi dare dei consigli però poi provateli sperimentateli e fatevi un vostro giudizio sulla simulazione storica che preferite sulle tipologie di simulazione storica che preferite e sulle impostazioni della simulazione storica che preferite e all'interno di quell'impostazione quale titolo voi preferite come vedete approccio una ricerca libera individuale ma anche continua però deve essere attenzione questo è un grande insegnamento dei war game che anche qui un pochino è americano nel senso migliore del termine diciamocelo un approccio libero però rigoroso critico quasi scientifico scientifico non nel senso di numerico ma di improntato alla logica improntato al ragionamento alla razionalità è un approccio critico libero ma rigoroso alla riflessione storica approccio critico la critica è libera l'approccio critico è libero però è anche rigoroso sapendo che ce lo siamo detto abbiamo detto i war game non sono dei modelli neutri e qui entra un po' il discorso perché l'antrenorità assoluta nella ricerca storica non esiste lo dico sempre se qualcuno comincia a dirvi all'inizio del libro di un discorso che la sua analisi storica tutto quello che sentirete o leggerete è neutrale obiettiva ispirata solo dai fatti reali smettete di ascoltarlo cambiate canale chiudete il libro andatevi all'altra parte andate a fare una passeggiata se si può con zone rosse o arancioni eccetera perché perché vi sta mentendo e sa benissimo che vi sta mentendo perché nessuna visione storica ma perché nessun pensiero nessuna espressione neutra è neutrale soprattutto quando pensa di parlare dei fatti o quando vuole parlare dei fatti perché l'interpretazione dei fatti è veramente molto ampia certo ci sono alcune interpretazioni che sono palesemente sbagliate o addirittura alcune interpretazioni che sono politicamente orientate o ancora che sono moralmente molto discutibili se uno mi viene a dire che l'olocausto non è mai esistito o peggio ancora che l'olocausto era una necessità storica probabilmente io lo prendo a schiaffi ma nel senso perché mi parte proprio qualcosa perché non non ha senso quello che sta dicendo però se uno mi viene a fare un discorso sulla seconda guerra mondiale diceva perché in Germania sono successe queste cose non perché i tedeschi sono diventati improvvisamente cattivi e matti tutti quanti ma perché c'erano delle motivazioni sbagliate moralmente tutto quello che volete però c'era una catena causale allora stiamo facendo indagine storica anche scomoda anche scomoda per carità però appunto stiamo facendo comunque indagine storica ecco i giochi di simulazione si inseriscono in questo canale sono abbastanza spregiudicati quelli migliori sono spregiudicati ci creano problemi non dico che ci parlano bene dei cattivi però un po' anche mettendoci nei panni dei cattivi non facendoci mai dimenticare che sono cattivi però ecco presentandoci la realtà da più punti di vista ci fanno quello per cui sono nati che vedete i giochi di simulazione o il game eccetera nascono per darci quelli che gli americani chiamano degli insights sulla realtà cioè delle intuizioni degli spaccati della realtà delle riflessioni sulla realtà e lo fanno anche anche quando vogliono soltanto farci divertire io sto registrando questo ho fatto diverse partite in solitario a Chancellorsville 1863 dove certo mi sono trovato a fare anche i sudisti a Chancellorsville e per carità possiamo dire quello che volete sono io anch'io d'accordo sul corso della confederazione lo schiavismo e tutto il resto però in quel momento mi ha messo nei panni dei soldati sudisti e mi ha dato degli insight su come loro hanno vissuto quel momento in quella determinata maniera ah quando poi non voglio essere nei panni di uno schiavista però però attenzione quegli insights per fare della ricerca storica seria mi servono non significa che mi immedesimo che lo giustifico però mi servono e poi nell'ambito poi di eventi puramente militari è chiaro che devo lavorare un po' anche per focalizzazioni cioè in quel momento sono focalizzato su quel singolo evento sulla battaglia sulla campagna diciamo di Chancellorsville è chiaro che poi ci possono essere tante discussioni sullo schiavismo ma se mi occupo solo di Chancellorsville quelle discussioni ci sono ma sono sullo sfondo mi sto occupando di altre cose quindi attenzione perché il gioco di simulazione il wargame nascono proprio per questo scopo per darci questi insight sulla realtà e questi insight forse loro sì sono neutro e comunque sia di per sé non hanno un colore sta a noi dargli una valutazione io ho cominciato dai wargame anche se in realtà un po' questa puntata è stata sperata da episodi l'abbiamo detto all'inizio che sono avvenuti al di fuori dei wargame in realtà uno c'è stato è anche abbastanza abbastanza recente chi l'ha seguito sa bene a che cosa mi riferisco quando faccio il nome di Scramble for Africa che era un discorso è un gioco che era in P500 della GMT sul colonialismo e che la GMT poi è ritirato in tutta fretta dal P500 perché c'erano state delle forti polemiche su BGG perché era un gioco che secondo alcuni ispirava i giocatori a fare una corsa alla colonia africana allo sfruttamento del continente africano perché metteva dei panni delle potenze coloniali e appunto era un semplice gioco in cui si facevano punti sfruttando l'Africa il problema il problema è che è vero cioè effettivamente questo è l'attitudine mentale il mindset sempre per usare parole angelesi ma è importante in questo caso utilizzarle perché nascono sono ospetti che sono nati molto in ambiente anglosassone in ambiente anglosassone questa era l'attitudine mentale delle potenze coloniali corriamo a prenderci quanta più roba possibile in Africa che può anche essere se inquadrato bene un discorso anche moralmente valido mettervi nei panni di di queste potenze coloniali per far vedere quanto erano spregiudicate quanto poco gliene importava abbiamo avuto casi di giochi come this guilty land and infamous traffic bleeding cancer se ne ho parlato anche su di un gioco che effettivamente hanno trattato queste queste tematiche problematiche anche mettendovi nei panni dei tra virgolette anzi in questo caso non di tra virgolette dei cattivi di quelli più spregiudicati per farvi appunto orientare no ed è importante perché mettendovi quasi facendovi indossare questi panni molto scomodi vi fanno riflettere vi danno quasi uno shock e vi fanno riflettere su quanto effettivamente fossero spregiudicati come anche John Company per esempio John Company che adesso sta per uscire una nuova edizione un gioco sulla compagnia delle indie inglese in cui questi distruggono interi imperi nazioni eccetera questi responsabili della compagnia delle indie corrompendosi a vicenda togliendo soldi alla compagnia stessa truffando con trattative politiche eccetera solo per farsi la bella villa solo per piazzare un figlio a corte o diventare dei diplomatici ecco questo è importante allora questo gioco Scramble for Africa perché mi è dispiaciuto che sia uscito dal P500 non perché io sia un maledetto colunialista e volevo giocare in maledetto colunialista e perché in realtà è un mistero questo gioco al di fuori della ristretta cerchia di coloro che l'hanno provato in playtest nessuno l'ha mai provato non è che è uscito hanno visto ah questo gioco tratta gli argomenti in maniera così stupida così banale e allora no dobbiamo togliere non è mai uscito neanche quelli che l'hanno accusato nella stragrande maggioranza dei casi l'hanno mai provato è solo partita la polemica noi non sappiamo com'è Scramble for Africa magari era una trattazione che invece era corretta che invece aveva aveva un senso e anche un senso un insegnamento morale un interessante insegnamento storico magari non lo era e poteva essere corretta non lo sappiamo altri casi beh appunto quello poi dopo e questo del Camp for Africa mi pare che sia stato del 18-19 insomma di un paio di anni fa e poi vabbè poi ovviamente ci sono stati altri casi ma questi sono casi su dei giochi all'interno del contenuto dei giochi che viene ritenuto inopportuna una trattazione che viene ritenuta inopportuna e poi vabbè è inutile nascondercelo c'è stato il cosiddetto Affair Tascini Tascini che è questo autore italiano che ha fatto delle affermazioni in italiano che sono state riportate in America tradotte delle affermazioni che potevano anche essere discutibili sulla discriminazione razziale ma le aveva messe in un contesto non è per fare la difesa o non la difesa erano delle affermazioni che magari certo potevano essere fraintese poi dopo parte tutta una polemica allora è razzista eccetera allora la sua casa elettrice ha la licenza lui fa delle scuse ma non vengono accettate queste scuse le si ritiene insufficienti leggendo la frase francamente si rimane un po' così può essere stata espressa molto male può essere stata espressa molto male però ecco non gli è stato dato il beneficio del dubbio e questo è stato un caso particolarmente grave perché non ha riguardato un gioco ha riguardato l'affermazione di un autore di un gioco vedete queste sono problematiche molto complesse che ci chiedono ci spingono a chiedere dove il punto in cui si fin da dove si può estendere la libertà personale quando si deve fermare perché ci sono argomenti da trattare in una certa maniera e da evitare dei fraintendimenti veramente quando è sincero non è sincero un po' l'ostracismo che si viene a creare insomma sono argomenti effettivamente molto molto delicati io vorrei trattare attenzione vi ripeto non sto prendendo la parte di uno dell'altro vi esorto a rifletterci sopra su che cosa significa avere la libertà di inserire all'interno dei propri giochi determinati argomenti trattando in una certa maniera sottoponendo la propria trattazione la libera valutazione da parte dei giocatori e anche un po' delle proprie affermazioni quando si è comunque dei personaggi pubblici questo è veramente un invito tutta questa puntata è veramente un invito alla riflessione alla riflessione perché poi questi argomenti noi ci ritroviamo anche in giochi che ci sembrano assolutamente innocui i famosi cubetti marroni di puerto rico che in realtà sono degli schiavi ma non li si vuole dire il Struggle of Nations di Wallace che nella nuova edizione anche quello è un gioco sull'espansione coloniale espansione storica coloniale imperialista c'è la schiavitù il traffico degli schiavi però non lo si vuole chiamare in quel modo loro lo si chiama il Gold Coast Trade si trova tutta questa perifrasi lo si nasconde un po' sotto il tappeto anche se tu lo metti nella premessa addirittura c'è una premessa che gli dice guardate noi l'abbiamo chiamato Gold Coast Trade perché non volevamo far sì che voi pensate di fare soldi sulla schiavitù però storicamente è successo storicamente le grandi potenze europee hanno anche fatto soldi sulla schiavitù poi facciamo perdere tutti i discorsi di Eklund che anche lui di Phil Eklund con Pax Emancipation che anche lui Phil Eklund è rimasto impelagato in queste storie a vario titolo però Pax Emancipation Emancipation poi dopo ha la tesi che in realtà sono stati gli europei a eliminare lo schiavismo che lo schiavismo esisteva già da prima possiamo dire di nuovo che lo schiavismo sì esisteva già da prima ma gli europei li avevano reso sistematico e quindi eliminandolo con i movimenti ebolezionisti inglesi di fine 700 prima 800 in realtà hanno risolto un problema che avevano creato loro però ecco ok almeno qui stiamo discutendo vedete la bellezza la libertà di discutere discutere delle tesi io posso essere d'accordo fino a un certo punto con Eklund non d'accordo poi dopo ci si scambia le idee giocando Pax Emancipation possiamo parlarne eccetera possiamo dire questo mi sembra giusto questo secondo me no ecco la libertà sta qui ma nessuno dall'altro ci viene a dire no di questo non ne devi parlare o peggio ne devi parlare solo in un certo modo perché allora a quel punto la libertà finisce e di nuovo oizenga se la libertà finisce anche il gioco finisce sia ben chiaro quindi noi vedete questo discorso io prima l'ho affrontato dalla parte dei wargame ora lo sto affrontando un po' dalla parte dei giochi di simulazione ibridi dei wargame ibridi ma addirittura anche degli eurogame è vero quindi qui in ambientazione c'è poco però comunque c'è vedete che è molto trasversale ed è un discorso che ci ricorda un po' quella puntata di Checkpoint Charlie quella dove abbiamo parlato un po' del chi cerca trova ecco bisogna vedete c'è un altro gioco che è Conquistadors della Compass Games in cui siete dei Conquistadors e che è andata in giro in America a fare ricchezze anche massacrando e mettere l'una contro l'altra le varie le varie civiltà precolombiane che andate ad incontrare e quindi in maniera di nuovo molto spregiudicata allora lì non c'è una clausola morale non c'è un punteggio della moralità è giusto o sbagliato in realtà c'è ma non è un punteggio non è questo è importante non è gamificato cioè non è un punteggio siete più buoni o meno buoni no perché quello lo andrebbe a svilire a banalizzare la clausola morale ve la dovete fare voi vedete questo è importante ce la dovete mettere voi non ve la ritrovate preconfezionata io ho anche cari amici che mi dicono ma io quando gioco a un wargame a un gioco di simulazione storica non mi faccio questi problemi morali di eticità stacco questo pezzo del mio cervello e mi concentro solo sulla situazione un gioco faccio un gioco sul fronte orientale fronte russo interpreto i tedeschi non penso al fatto che dietro ci sono tutti quanti massacri e poi anche ai russi poi dopo toccherà farli anche loro quindi ai sovietici quindi ovviamente con misure diverse però insomma comunque è un problema è una caratteristica che anche questa purtroppo è molto trasversale e io non ci penso e vado avanti e mi concentro sul gioco esattamente come facevano i comandanti dell'epoca sì a me non piace però questa cosa perché io forse qui ragiono un pochino più da storico quanto meno appassionato di storia anche quando io affronto la storia non stacco la mia moralità cioè la mia bussola morale mi dice che fare massacri civili è sbagliato studiare la storia me lo conferma cioè io lo so lo so benissimo come secondo me lo spero benissimo una stragrande maggioranza dei comandanti militari dell'epoca alcuni non gli importava niente altri lo sapevano ma andavano avanti uguale per comodità personale altri li favorivano altri cercavano addirittura di limitarli io so che ci sono ok non fanno parte della mia equazione di gioco perché non sono un fattore di gioco ma secondo me è importante che non sia un fattore nel gioco perché lo lasciano ancora più libero non cioè mettere dei punti dei punti bontà dei punti miralanza nel nel scusatemi sì mi viene a ridere ma un po' col magone perché è veramente una cosa orribile banalizzarli in questa maniera cosa devo fare il tedesco però se non faccio massacri civili come tedesco allora prendo 10 punti bontà allora sto a posto come allora c'è un punteggio nel gioco migliore non funziona così la morale non funziona così io gioco il tedesco e so e continuo a dirmi ok faccio così però dietro nelle retrovie sta succedendo questo ci sono gli ersatz ci sono le formazioni di tizzi che vanno a massacrare i civili o gli ebrei che trovano e lo so e continuo a saperlo e anzi pensando a quell'evento storico devo essere ancora più consapevole ma sono consapevole di mio come esattamente per esempio poi questo porta anche a dei momenti a delle tipologie di gioco che non riesco a fare per esempio io avendo avuto la famiglia che viene da Cassino la famiglia di mamma ce n'è anche qualcuno ma non ce la faccio a giocare più di tanto i giochi in cui sono l'equipaggio di un bombardiere americano o tedesco nella battaglia in Inghilterra eccetera che bombarda le città civili non ce la faccio perché fa parte della mia storia personale di famiglia questa cosa e se hanno avuto la famiglia Cassino la battaglia di Cassino eccetera però non è che stacco la mia morale lo gioco come ferite no proprio perché io ce l'ho ancora di più però non mi impedisco tranne questi casi molto particolari di indagare su determinati personaggi su determinate fazioni su determinati eventi rimango ancora più libero anzi non voglio che il mio giudizio morale su quegli eventi faccia parte del gioco perché è un mio giudizio morale certo dobbiamo rimanere ben 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 consapevoli come sempre quel computer quando registro fa venire fuori le cose più strane non vi preoccupate spero non si sentano troppi click e cose varie comunque quindi come vedete è una cosa importante non trovarmi la morale preconfezionata perché vedete anche nelle loro opere gli storici poi si ribellano alle inclusioni forzate o alle distorsioni o al fatto di non dover parlare di certi argomenti si ribellano queste inclusioni diciamoci il cosiddetto politically correct no? che poi in definizione anche un po' stupida non ha molto senso però un po' però rende l'idea cioè quello che è ma allora nel tuo gioco devi metterci il personaggio di colore devi metterci il personaggio omosessuale che secondo me è uno sviluppo delle persone di colore degli omosessuali che cos'è diventano una quota di nuovo facciamo il punteggio gamifichiamo anche quello anche le diversità di genere le diversità razziali le diversità di etnia di storia personale diventano dei punteggi dei curriculum delle note in un curriculum no io mi ribello a tutto questo mi ribello anche le scuse forzate non devi parlare di certe cose o ai camuffamenti abbiamo parlato di strike love nation con la col cost trade dei blocchi marroni di puerto rico insomma no io le voglio sapere queste cose il gioco di simulazione mi ha insegnato che devo saperle queste cose devo anche usarle devo sentirmi nei panni di chi le usa certo è più difficile ma attenzione mi serve molta più tanto magari il famoso scramble for africa faceva un macello e li trattavano in maniera totalmente banale allora è stato giusto eliminarlo il mio problema è che non lo so non lo so però mai questo è quello che non mi piace di quella storia che avrei voluto poterlo valutare liberamente magari appunto per poi farci super articolo e dire guardate che brutto che è scramble for africa che fa esattamente quello che puerto rico fa con i blocchi marroni solo in grande però non lo posso fare mi è rimasto questo buco nero vedete qual è il problema del del bloccare la libertà che tu blocchi è anche la possibilità di reagire all'ingiustizia perché gli metti un filtro davanti no di questo no questo no allora la GMT secondo me un po' andò nel panico perché appunto di fronte a tutte queste polemiche prudenzialmente l'ho rimosse però è rimasto questo buco grigio vedete questo ci fa interrogare ed è molto importante ci fa interrogare su come i giochi effettivamente di simulazione la loro non dico neutralità ma la loro matematicità per certi versi ci fanno capire che la difficoltà è nell'intendere la diversità come un valore di inclusione e di aggregazione corretta nel contesto normale giusto di più aspetti della stessa vicenda non di inserirci una forza e men che meno di rimozione o peggio ancora di correzione di dettagli poco graditi se io faccio un gioco su un determinato momento storico una determinata popolazione un determinato periodo in cui non c'erano persone di colore metterci la persona di colore come è stato fatto in alcuni telefilm ma per forza che che senso ha ripeto uno svilimento la diversità la tutela di diversità non è questo e dire che se una persona era una persona di colore aveva una certa etnia aveva un certo orientamento sessuale una certa religione non nasconderlo questo è chiaro nell'ambito di un gioco di simulazione ma anche di un gioco ambientato perché poi la responsabilità alla fine è uguale anzi vorrei per certi versi il gioco ambientato anche avendo un pubblico maggiore ha una responsabilità maggiore e allora è questo la vera tutela di diversità cercare e dire se nulla neutralità un minimo di obiettività se certe cose c'erano se ne parla se certe cose non c'erano non se ne parla ma semplicemente perché o c'erano o non c'erano se ce le metti me lo devi dimostrare che poi ci può anche stare però me lo devi dimostrare o se non ce le metti o se non ci metti certi dettagli nell'ambito anche di un'ambientazione anche di un Eurogame peggio ancora poi di una simulazione questo è il concetto importante di libertà vedete che lo stiamo definendo un po' diverso la libertà non è faccio quello che mi pare arrivederci e grazie la libertà soprattutto nell'ambito della cultura di un prodotto culturale che va verso il pubblico è avere anche una responsabilità è qualcosa di di variegato di complesso di difficile di di disfaccettato è responsabilità la libertà è responsabilità io come autore devo essere libero di fare un gioco ma se faccio un gioco quindi creo un modello un'ambientazione sono anche responsabile della libertà di come io ho potuto creare che ho esercitato nel creare quel modello o quell'ambientazione in quella determinata maniera sono chiamato a risponderne e questo sì perché attenzione e questo è importante però perché poi vale anche nell'altro senso che se pensate di inserire dentro un gioco di simulazione o anche un gioco un euro game ambientato questo o quel contenuto ha forza per sostenere a prescindere una tese anziché un'altra o peggio ancora per farvi capire a me sta più simpatica la fazione X anziché la fazione Y magari per motivazioni ideologiche o politiche neanche troppo velate sia in un senso che in un altro un discorso questo sia un discorso neutro beh avete proprio sbagliato mezzo perché vedete qui io mi ricordo il grande sentimento di H.G. Wells l'unica cosa che il buon gioco di simulazione il buon war game quelli fatti bene l'unica cosa che fanno veramente che rendono veramente evidente a tutti e mostrare quanto sia stupida e orribile la guerra e quanto la guerra venga fatta e venga subita da tutti e abbia la guerra ma in generale anche i conflitti politici economici eccetera abbiano ripercussioni su tutti e siccome questo è un aspetto così evidente fate attenzione perché è molto semplice in questo distinguere immediatamente tra un buon una buona simulazione un buon war game e una cattiva simulazione un cattivo war game tra un'opera che è frutto di un'analisi storica onesta e un'opera che invece viene realizzata solo per scopi propagandistici di nuovo dall'una e dall'altra parte ci sono stati dei casi addirittura dei casi espliciti di regimi politici andrea angiolino andrea angiolino parlava in vecchi articoli mi ricordo dei giochi dell'oca che in italia furono fatti quando ci furono le sanzioni per la guerra in abissini eccetera in cui c'è sfedeva la croce rossa se capitano sulla casella la croce rossa dice ah mi curi no perché in realtà sono alleati degli inglesi e quindi in realtà stanno dando armi agli indigeni stanno vivere i rifornimenti e gli abissini contro gli italiani ma anche i tedeschi l'hanno fatto ma anche i sovietici dell'altra parte per carità anche gli alleati hanno fatto dei giochi di propaganda durante la guerra lo sai va bene però ecco se voi dite se poi oggi invece nel nel periodo moderno di oggi fate uscire un gioco in cui si vedono è fatto apposta per vedere i nazisti quanto in realtà potevano avere ragione oppure la Wehrmacht quanto era brava oppure l'armato rossa quanto era bravo cioè se se sballate tutti quanti i riferimenti storici beh si vede ed è una cosa molto brutta è una cosa molto triste perché svilisce il gioco svilisce la storia svilisce chi lo fa non funziona ripeto non si può avere un'impostazione del tutto neutra perché è una cosa stupida si deve avere però un'impostazione obiettiva ricordandosi uno dei motivi per cui nasce il wargame che è quello di essere e si spiace non una glorificazione della guerra esattamente il contrario una sua analisi quasi un suo disarmo in alcuni casi questa secondo me è l'unica uso probabilmente probabilistico buono in wargame quasi un'opera di pacifismo cioè di far vedere appunto come diceva H.G. Wells quanto è brutta è stupida la guerra quanto non esista l'eroismo in guerra quanto in realtà sia una tragedia e vi fa mettere nei panni di chi ha subito quella tragedia e vi fa riflettere di nuovo liberamente quindi questa è una cosa che abbiamo detto colpisce sia wargame che eurogame sia autori di wargame che autori di eurogame sia recensori ma gli stessi componenti del gioco ci sono state mille polemiche sui font che sono stati utilizzati in un regolamento perché un regolamento è stato utilizzato in font gotico allora quel regolamento è una celebrazione del nazismo oppure perché le impedine delle SS sono neri e allora nere perché si fa a vedere sono più potenti quindi è una glorificazione delle SS insomma tutti questi tutti questi aspetti lasciano un po' il tempo secondo me lasciano un po' il tempo che trovano come quando si dicono se fate un gioco sui romani conquistano la gallia allora è la glorificazione dell'imperialismo romano ragazzi non scherziamo non può funzionare così e abbiamo visto che questa cosa colpisce sia euro che wargame cioè che giochi di simulazione anche wargame che l'abbiamo saputo non è uguale a gioco di simulazione però diciamo giochi di simulazione militari però attenzione non li colpisce esattamente nella stessa maniera perché per esempio nella simulazione è chiaro chi il discorso è più focalizzato e lì ci si chiede ma per esempio si può simulare davvero tutto è davvero possibile cosa faccio faccio la simulazione delle erasatz tedeschi che andavano a caccia dei civili e degli ebrei nelle retrovie sul fronte orientale il caso famoso di trains con l'esperimento di fare un gioco ferroviario che poi a metà del gioco si scopra un esperimento molto controllato si scopra che questi treni arrivano nei campi di concentramento e però lì sono cose molto molto particolari che non sono dei giochi sono degli esperimenti psicologici e antropologici va bene però appunto c'è una domanda nella simulazione si può veramente simulare di tutto non lo so perché in realtà è stato fatto un infamous traffic che è una simulazione sulla guerra dell'oppio in cui fate traffico di oppio che in realtà è traffico di droga però effettivamente è quello che fecero le potenze europee tutto tutto io sono dell'idea che non si può simulare tutto e certe cose vanno simulate solo vanno rappresentate solo in una maniera molto precisa molto delicata molto approfondita molto attenta perché non può essere trasformato gamificato nel senso peggiore della parola cioè trasformato in un punteggio tradizionalmente certo l'abbiamo sempre detto il mondo della simulazione tradizionalmente si becca più critiche però altra differenza è un po' più a riparo un po' perché ha una diffusione minore e ha un pubblico che di solito di solito è più consapevole dal punto di vista storico di solito perché purtroppo i casi estremi in un senso o nell'altro ci sono anche lì perché è un contesto umano quindi ci sono casi di ogni genere però di solito un po' più a riparo da questo punto di vista ci abbiamo fatto un po' il calo l'abbiamo già detto subito l'aspetto degli Eurogame il mondo degli Eurogame però insomma invece più più esposto abbiamo detto sotto gli occhi di tutti e soprattutto deve fare i conti con una tentazione che siccome nel mondo degli Eurogame l'ambientazione è meno determinante l'abbiamo sempre detto nel mondo della simulazione prima il contenuto l'ambientazione prima delle meccaniche negli Eurogame è esattamente il contrario cioè sono le meccaniche che nascono prima dei contenuti prima dell'ambientazione e quindi lì c'è una forte tentazione di modificare artatamente i parametri o di inventandosi proprio mondi fantastici in cui certi problemi non esistono hanno una certa una certa visione nel senso lo schiavismo in un mondo fantasy esiste ma è fatto soltanto dagli orchi che quindi per questo sono cattivi che lo fanno perché? perché sono orchi perché sono cattivi poi giustamente qualcuno ha anche scritto dei libri ma insomma tipo ori orchi parliamo un po' anche delle cose dal loro punto di vista oppure avete è già questo un atteggiamento più interessante più critico ecco e altre volte oppure si tolgono dettagli e si va verso l'astrazione e si dice beh ma è un euro game non è che devo simulare tutto allora faccio una cosina così e non parlo di determinate tematiche di determinati problemi perché è un euro game non è che devo essere così preciso e casualmente vengono tolti vengono astratti proprio gli aspetti più problematici di un'ambientazione anche quando quell'ambientazione è un'ambientazione storica insomma come vedete ci sono dei problemi dei problemi paralleli in più in nuovo caso Tascini ce lo ricorda quanto influiscono le idee o la percezione delle idee che un autore ha rispetto al valore dei suoi giochi eh è questo questo è un discorso importante questo è un discorso molto importante perché se no ci rischia veramente di limitare molto molto il campo a quelli che sono legittimati che sono considerati degli autori legittimi e di nuovo a me questa cosa non piace a me piace di poter dire ma no l'impostazione di quello è sbagliata perché è impostata politicamente in un certo senso non mi interessa piuttosto che dire ah lui ha detto questo allora allora è politicamente orientato in questa maniera non mi importa se mi portano 50 prove che in realtà non è così A uguale B e quindi io lo tratto da paria e quindi lo metto da parte per me non esiste più l'insegnamento di nuovo l'insegnamento è un insegnamento molto profondo sulla libertà perché la libertà non è mai anche la libertà di valutazione in effetti non è mai qualcosa di incondizionato cioè se io do un giudizio su qualcuno non posso dire ma io sono libero anche di non riflettere siccome tutti quanti lo dicono siccome ho letto queste cose e ho letto solo accuse contro una certa persona o solo difese contro una certa persona allora basta io ci credo punto e basta no sono libero di crederci sì ma questa è libertà di essere disinformati devi sempre io quando è successa la cosa di Tascini mi sono messo a leggere articoli sia da una parte che dall'altra parte poi ho espresso un mio giudizio personale l'ho fatto in libertà perché il mio concetto di libertà che è la mia libertà corrisponde alla mia libertà di esprimermi corrisponde al mio dovere di informarmi e il mio dovere di informarmi non può essere soltanto informarmi solo nella parte che mi sta più simpatica ma anche andare a leggere anzi soprattutto andare a leggere gli articoli dell'altra parte per rimettere in discussione il mio pensiero e arrivare ad un pensiero più complesso perché queste sono cose complicate allora questi sono argomenti complicati sono complessi l'espressione personale l'ideologia quanto di quella ideologia personale entra in un gioco oh ragazzi non sono scherzi e quindi se noi vogliamo parlare di libertà di esprimerci questi riguardo a questi argomenti dobbiamo considerarla come una libertà legata a doveri più stringenti di informazione e allo stesso modo attenzione perché la libertà di giocare di creare un modello storico di proporre una visione storica anche in un euro game non solo in un gioco di simulazione ma poi soprattutto in un gioco di simulazione non è incondizionata non può non sono libero di dire in un gioco sulla seconda guerra mondiale che l'olocausto non è esistito di nuovo oppure che forse alla fine è stata anche una cosa buona è un abominio anche soltanto anche solo pronunciarlo mi fa venire un travaso di bile e non sono libero di mettere una cosa di genere perché è palesemente una menzogna ed è anche una vergogna mi sta venendo una vergogna è anche una vergogna sono libero di mettere altri aspetti relativi alla seconda guerra mondiale anche visioni problematiche relative però sono libero dimostrandolo citando fonti spiegando nelle note dell'autore e negli approfondimenti storici perché perché li ho affrontati in quella maniera insomma di nuovo doveri più stringenti la libertà e questo è un grande insegnamento proprio del gioco proprio perché è la massima espressione della libertà cioè la massima espressione in questo insegnamento fate attenzione perché la libertà non è mai qualcosa di incondizionato è sempre legata a dei doveri dei doveri stringenti soprattutto quando parliamo di ambiti culturali ambiti culturali adesso affrontiamolo un po' ci avviciniamo un po' alla conclusione di questa puntata che è stata abbastanza lunga mi dispiace ma vedete sono argomenti complessi poi ce ne sarebbe veramente tanto da dire di nuovo ripeto 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 vi prego non pensate io sto giustificando uno non giustificando un altro accusando questo accusando questo non è questo discorso questo è un discorso proprio veramente di metodo e proprio anche in questo io voglio affrontare un altro argomento prima di chiudere molto importante che è quello del multiculturalismo perché noi abbiamo parlato di culture di gioco come prodotto culturale di diverse culture che si mettono a confronto e quindi la grande tematica del multiculturalismo che anche nel gioco siccome è un momento comunitario un momento di socialità anche nel gioco esiste questo problema anzi si sente molto questa non dico questo problema questa caratteristica della società moderna che è una caratteristica assolutamente positiva che però ci pone determinati problemi per esempio il problema del pubblico dei giocatori si dice spesso è vero che nei wargamer per esempio ci sono soltanto maschi bianchi di mezza età che è un pochino di più della mezza età potrei dire a livello demografico statistico sì ma c'è l'altra domanda che nessuno si fa ma questo è voluto cioè è una cosa voluta dell'ambito dei wargamer che rimangano soltanto maschi di una certa età di origine bianca eccetera negli Stati Uniti ma anche da noi eccetera è così è inutile nascondercelo è voluto io personalmente devo ancora vedere un singolo caso di una persona che è non maschio non bianca e non di mezza età o più della mezza età che venga allontanata da un tavolo da gioco di un wargame non solo di un wargame ma da un tavolo da gioco veramente lo devo vedere a parte che noi wargamer siamo così pochi che se qualcuno si avvicina a noi il primo che dice no tu te ne vai perché sei una donna eccetera io personalmente lo prendo sbelle ma sei ma sei scemo già siamo in 5 adesso cominciamo pure ad allontanarli di nuovo ci sono i singoli casi ci sono i casi estremi eccetera poi soprattutto quando sei in alcuni tappi di stretta il singolo caso estremo di quello che da di mate dice no io questa non la voglio perché è donna non dico neanche io questo non lo voglio perché di colore perché francamente non l'ho mai sentito in vita mia purtroppo c'è un problema di alcuni che hanno un leggemento maschilista e questa è una cosa che mi fa ribrezzo però ok ci sono però sono oggettivamente una minoranza molto vocale molto rumorosa ma state tranquilli che per uno che ce n'è anzi tranquille se qualche signora signorina quello che volete qualche ragazza ci ascolta qualche esponente del gentil sesso ci ascolta sappiate che per uno che ce n'è ce ne sono altri nove che non vedono l'ora veramente di fare questa apertura fra l'altro tra gli autori di wargame professionali e non non mancano certo le donne e neanche le persone transgender che lo dicono tranquillamente e nessuno alza mezzo dito e dire no ma io il gioco di quello non lo compro perché è un transgender perché c'è nessuno e va bene ok è una sua scelta personale benissimo fa bene così non poi giudico il gioco ma io dico no non mi piace oppure mi piace ma io veramente lo devo sentire ma anche nei discorsi un po' così un po' in privato francamente lo devo sentire non lo so sarò stato fortunato non non frequenterò tutti questi razzisti sessisti eccetera che secondo alcuni ci sono nel mondo di wargame io francamente conosco uno o due casi di persone un po' così un po' sui generis ma sono uno o due casi su mille cioè siamo anche al di sotto della statistica normale sono tranquillamente gestiti dalla comunità quindi se siete una donna se non se siete una persona che non ha che non è bianco mi viene da ridere scusate che non è un musulmano un ebreo eccetera un ateo quello che venite nessuno nessuno vi caccerà un trans un gay nessuno vi caccerà veramente però attenzione questo non è che sminuisco il problema ripeto ci sono alcuni che hanno delle idee strane però veramente sono alcuni il problema c'è va affrontato va anzi un po' promosso il superamento di determinate barriere anche inconsapevoli che ci sono ma è un discorso di crescita comune non di condanna perché tizio ha detto questa cosa ha fatto la battuta sessista allora eccetera no è un discorso di crescita personale per esempio molti dicono ma io non lo propongo le donne il wargame perché sono sicuro che non gli piace io personalmente dico il mio discorso di crescita della sensibilità è di dire boh ma gliel'hai chiesto perché magari nove non gli piace ma una magari può essere interessata allora perché mi devo perdere quella singola che è interessata beh al solito ecco discorso poi io purtroppo vedo pochi giocatori di origini non europee poche donne eccetera purtroppo ne vedo pochi e poche ai nostri tavoli ed è vero che dobbiamo fare di più non è però un limite volontario cioè non è un qualcosa che volontariamente viene imposto succede e è un limite che va superato che esiste per motivi di tradizione di vari motivi che si sono succeduti in corso degli anni e che in molti stanno lavorando per superare ma in maniera serena come crescita comune e lo stesso per esempio io prima prima che fosse nata la pandemia ero stato chiamato mi ero impegnato ero pronto a impegnarmi in un progetto di utilizzo del gioco per aiutare l'apprendimento della storia fatto da un'associazione in un quartiere qui in un periferico di Roma e appunto questo programma di sostegno di sostegno didattico dell'utilizzo del gioco come sostegno didattico in un ambito storico ero felicissimo di mostrare questo potenziale di socializzazione del gioco a ragazzi che se portando i quartieri periferico semiperiferico della capitale avevano origini etniche le più disparate e anche si trovavano in un contesto di oggettiva difficoltà sociale io effettivamente ero pronto a utilizzare i gioco era uno strumento ottimo purtroppo la pandemia ha fermato questa cosa però ovviamente appena sarà possibile ricontatterò e sono sempre disponibile a ripartire con progetti di questo tipo anzi magari anche a studiare in modo come anche durante la pandemia magari si possa portare avanti a distanza eccetera anche perché ero veramente molto ansioso di vedere anche loro con le loro radici culturali con la loro sensibilità particolare come avrebbero assimilato ed elaborato determinate tematiche e determinate conoscenze che gli avrei trasmesso usare per esempio un gioco come Time of Crisis oppure anche Pandemic caduta di Roma sull'impero romano con dei ragazzi di origine africana di origine asiatica loro come lo vedono l'impero romano qual è la loro immagine che cosa gli che cosa gli suscita che quale reazione per noi è normale fa parte della nostra storia vediamo un po' a loro come la vedono qual è il loro punto di vista perché avrebbe accresciuto io avrei accresciuto la loro conoscenza ma per certe versi loro avrebbero accresciuto anche la mia e francamente non vedo l'ora che sia possibile riprendere quel progetto in qualche maniera d'altronde poi diciamocelo poi fa un po' ridere che noi italiani ci si metta ad accampare chissà quale pretesa di superiorità culturale eccetera perché insomma come italiani sappiamo benissimo quanto può essere fastidioso e addirittura odioso cadere vittima di visioni parziali o distorte della nostra storia nazionale degli aspetti militari della guerra in cui abbiamo combattuto eccetera voi italiani due mani in alto eccetera dai su lo sappiamo benissimo ci dà fastidio a noi figuratevi gli altri per piacere cerchiamo un attimo di avere non solo un po' di reciprocità ma anche un pochino di buonsenso però attenzione l'attenzione per visioni alternative che c'è l'altra faccia qui l'attenzione per visioni alternative culturalmente omologhe e a quella degli eventi storici non significa che un autore europeo non possa progettare delle simulazioni su vicende non europee o addirittura se lo fa perché anche queste cose ho letto mi hanno fatto molto arrabbiare o addirittura se un autore europeo fa una simulazione un gioco sulle vicende in Asia o in Africa cade automaticamente vittima di chissà quale pregiudizio chissà quale bias quale visione distorta allora se rovesciamo la cosa cosa significa che nessun game designer che non sia italiano potrebbe mai fare un gioco sul nostro rinascimento davvero cioè davvero soltanto gli italiani potrebbero fare giochi sul rinascimento solo i francesi sulla rivoluzione francese solo gli americani sulla guerra di indipendenza americana sulla guerra civile americana ma stiamo veramente scherzando eppure ho sentito argomentare con delle argomentazioni le più elaborate come non si possa solo autori africani possono fare giochi sull'Africa sulla storia africana una cosa è dire sono molto interessato a vedere la sensibilità culturale di autori di giochi africani sull'Africa come anche su non su altri argomenti che non siano l'Africa come i giapponesi sulla storia giapponese c'è una fientissima scuola di game design storico giapponese abbiamo visto adesso appena uscito 300 terra e acqua quindi insomma sono interessantissimo ma è un discorso positivo non è un discorso negativo non mi interessa se un americano fa un gioco sull'Africa perché sicuramente sarà sbagliato oh ma veramente stiamo scherzando se applicassimo questo principio non solo al gioco ma alla stereografia gli effetti sarebbero devastanti sarebbero addirittura demenziali io sommessamente ricordo a tutti che uno dei più grandi studiosi del risorgimento italiano si chiama è un signore che si chiamava e noi purtroppo non c'è più Dennis Max Smith era britannico e allora lui non poteva parlare non poteva scrivere tutte le sue opere su Garibaldi Mazzini il risorgimento perché era britannico perché non era italiano o se le ascritte avevano dei pregiudizi e quindi non sono valide di nuovo includere non escludere è la chiave cioè non è che escludendo dicendo lui non può parlare di queste cose perché non culturalmente non ne fa parte è un qualcosa di valido perché in realtà è un po' un certi versi un razzismo alla rovescia o comunque sia è un modo per nascondere il fatto che si deve dare priorità a determinate culture rispetto a che altre e io non ci sto perché non è che io devo dare una priorità a una cultura piuttosto che ad un'altra io devo facilitare l'espressione di tutte le culture anche quelle che storicamente non hanno avuto la stessa facilità rispetto a quella europea ma questo è un arricchimento non è un'esclusione è diversa la cosa e di nuovo questo è l'aspetto positivo della libertà libertà che è veramente libertà libertà tremenda libertà come vedete è veramente qualcosa di complesso ci pone una marea di problemi la libertà è molto più facile non essere liberi uno dice che il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza è veramente molto più facile non essere liberi perché essere liberi vi porta dei problemi vi porta una responsabilità personale per esempio porta il problema di avere una memoria storica di affrontarla in maniera libera e una memoria storica che se non è proprio condivisa almeno debba essere rispettosa dall'una o dall'altra parte ci sono due ottimi giochi di cui ho parlato nel canale da un lato Repubblica Ribelle sulle Repubbliche Partigiane dall'altro By Steltency sulle imprese della Decima Flottiglia Mass è il prima che diventasse la formazione antipartigiana con la Repubblica di Salò però comunque sia alcuni poi dopo finiranno lì quindi con le truppe della Marina della Marina Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale questi due giochi trattano eventi molto vicini temporalmente che fanno parte dello stesso conflitto eventi anche molto complessi in una maniera veramente molto rispettosa e quindi la libertà di avere una memoria storica di non nascondersi nulla di dire che questa memoria storica su tante cose può esserlo su altri aspetti non può essere condivisa perché si hanno delle visioni diverse alcuni giuste alcuni sbagliate io so ma non lo so io penso che alcune siano giuste io penso che altre siano sbagliate però almeno è rispettosa ecco è reciprocamente rispettosa questo sì la libertà ancora che non è la libertà che abbiamo parlato non è di essere i cattivi faccio il gioco sul fronte russo e non è tempo i tedeschi e non sono i tedeschi ma di vedere però la libertà è anche la responsabilità le due cose che abbiamo detto mano a braccetto di vedere il mondo del loro punto di vista io quando parlo di wargame ho spesso parlato della lezione di H.G. Wells con Little Wars con piccole guerre che è un trattato di pacifismo fatto con i wargame perfetto Wells era un genio e dall'altro lato ho parlato anche di quel gran film che è Croce di Ferro di Peckinpah che è una storia del fronte russo vista dagli occhi dei tedeschi non dico che i tedeschi sono buoni ma sono gente che sta cercando semplicemente di sopravvivere poi dentro ci sono le persone ammirevoli le persone intellettualmente oneste come le carogne gli arrivisti e quelli che passano sono tutti violenti eccetera c'è di tutto lì dentro c'è di tutto non è neutralità attenzione non è neanche obiettività perché è una visione molto particolare però è una visione libera che però è una visione che impone delle responsabilità ecco i giochi di simulazione storica i wargame fanno questo e lo vogliono fare in piena libertà e lo devono fare in piena libertà perché se no non possono farlo non vi diranno che i tedeschi hanno fatto bene ad attaccare la Russia anche quando vi fanno interpretare i tedeschi che attaccano la Russia anche quando vi chiedono come i tedeschi che attaccano la Russia di farlo e di invaderla nella migliore maniera possibile nella migliore maniera possibile per arrivare alla vittoria non vi stanno dicendo questo vi stanno facendo vedere però la storia dal punto di vista di chi ha fatto questo di chi ragionava in quella maniera e ancora una volta libertà libertà tremenda libertà vi mettono di fronte al dilemma morale di eh ok adesso vai avanti non spegnere la tua moralità vivi questa cosa con la tua moralità che non può essere la moralità di adesso la moralità di adesso ritrasportata indietro però rimane la tua e quindi il gioco non ti porta anzi per certi versi te lo esclude ti esclude la possibilità di applicare la tua morale odierna hai fatto bene agli eventi del passato non deve farlo però non deve neanche toglierti roba e spegnere la tua coscienza morale interiore individuale etica eh sì guardate che se ci vedete se ci pensate sono belle responsabilità eh e alcuni dicono un'altra obiezione che mi fa arrabbiare dall'altra parte ma è solo un gioco ma perché ci rompete le scatole ah ma lasciategli dire quello che vuole a questo tizio tanto sono solo giochi non vogliamo staccare non vogliamo pensarci solo un gioco è solo un gioco ma perché voi pensate che il gioco sia una cosa così una cosina banale di nuovo e adesso veramente chiudiamo abbiamo citato l'inizio abbiamo detto che l'abbiamo citato alla fine oizinga il gioco è libertà se non è libero non è più un gioco il gioco è un'attività libera se questa attività non è più libera non è un gioco al massimo dice oizinga è un simulacro una recita di un gioco ma non è più un gioco ma libertà è responsabilità la libertà è legata al dovere di esercitare quella libertà in maniera responsabile consapevole pensando anche agli altri e vedendo le cose da più punti di vista con un atteggiamento critico senza andare a caso ve l'ho detto non essere liberi di fare quello che vi dicono di fare marciare come i martelli di I don't break in the wall è molto più semplice rompere il muro essere il martello che rompe il muro è difficile ci si fa male perché poi dopo il muro non c'è più una strada dove andare lì a marciare poi dopo cammini e vai per conto di tu e tu sei responsabile di ogni tuo singolo passo l'ho detto e l'ho detto che è molto più complesso libertà libertà tremenda libertà questa è la chiusura finale quello che ci portano quelli che sono solo dei giochi alla faccia osigan dice la cultura nasce dal gioco il gioco è la la fonte crea le regole che creano la ritualità che crea il mondo altro rispetto al mondo materiale e quindi crea la cultura è solo un gioco certo e anche il fuoco è solo una reazione chimica soltanto che ci ha dato la civiltà o anche la ruota è solo una una forma geometrica però ha creato l'avanzamento tecnologico è solo un gioco però facciamo attenzione facciamo attenzione perché se limitiamo la nostra libertà giocatori limitiamo la libertà degli autori di giochi soprattutto se limitiamo la libertà degli autori di giochi di creare i giochi in una certa maniera limitiamo anche la nostra libertà di giocatori quindi non non ci autolimitiamo accettiamo il peso di questa libertà accettiamolo serenamente e veramente con allegria con gioia ringraziando tutti quelli che sono morti veramente che hanno dato la propria vita che hanno dedicato la propria esistenza in guerra come in pace al fatto che noi si possa vivere in una società problematica contraddittoria con tante cose dette non dette anche con tante ipocrisia ma in una società almeno noi questo sì il nostro privilegio questo vero privilegio delle società in cui noi viviamo la società è libere di nuovo non limitiamo la libertà degli autori di giochi di fare i giochi come ritengono di metterci le cose che ritengono di doverci mettere o di non metterci quelle che ritengono di non doverci mettere oppure di non imponiamogli di presentarci in una certa maniera un po' così un po' furbetta per non creare problemi e anzi spingiamoli a creare delle ambientazioni oneste intellettualmente complete anche problematiche perché altrimenti se non se noi andiamo a limitare la loro libertà degli autori di giochi limitiamo anche la nostra libertà dei giocatori perché i giochi che ne verranno saranno distorti o sciatti banali oppure addirittura politicamente orientati e allora non saranno più giochi quantomeno non saranno giochi validi personalmente non saranno giochi che io ritengo meritevoli del tempo dedicato a giocarli quindi veramente ovviamente ognuno con le proprie sensibilità con le proprie attenzioni ricordandoci che ci sono dei problemi non è che uno nega che esiste una problematica razziale ma stiamo scherzando va affrontata e va affrontata in maniera molto decisa ma anche molto consapevole molto netta molto chiara molto corretta esattamente come qualsiasi analisi storiche in maniera molto precisa con molta responsabilità con molto ragionamento con molta riflessione senza lasciarsi andare ai luoghi comuni in un senso o nell'altro di nuovo una grande responsabilità e alla faccia continua a dire di quelli che dicono che sono un gioco io dico meno male che è un gioco non sono un gioco che è un gioco che è una cosa molto importante veramente molto importante ecco ultima cosa di nuovo questa puntata anche un pochino più lunga rispetto alle altre però ci tenevo a farla non considerate questa come una difesa di una posizione anziché di un'altra come di una critica qualcuno come oppure di un altro è un discorso di metodo ragionate 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 pensate 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 rimettete sempre in discussione soprattutto tutte quelle fonti tutti quei materiali tutti quegli articoli quei testi quei filmati quelle cose tutto quello che voi pensate di sapere soprattutto tutto ciò che vi dà ragione andate soprattutto a guardare quello che non vi dà ragione anche rispetto a questo podcast che io ho fatto anche rispetto alle mie opinioni guardate tutto certo tutto non è possibile lo so che è più complicato cercate almeno di avere una panoramica ampia sentite ogni campana non limitatevi a correre presso l'uno presso l'altro presso un canale di pensiero presso un altro canale di pensiero ragionate 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 il gioco sia che sia gioco di simulazione quindi abbiamo uno stretto rapporto con la realtà o che sia il board game generico quindi che abbia solo se stesso come riferimento però le sue strategie i suoi equilibri interni che sono parimenti meritevoli i suoi modelli interni il gioco in quanto tale ci obbliga a ragionare come lo diceva Heizinger il gioco è cultura anche quando è mero divertimento è andare in un mondo altro e ci obbliga a farlo soprattutto se gioco analogico perché non si gioca da solo siete voi a farlo muovere e quindi ragionate sia sulle regole che sulle strategie sia su come fare le cose sia su che cosa su che cosa volete fare perché fate le cose ecco ragionate su questi due aspetti come fare le cose e perché volete fare quelle cose questo è un insegnamento molto importante del gioco e soprattutto un insegnamento di libertà di ragionare perché il ragionamento deve essere libero esattamente come il gioco perché forse un po' il ragionamento anche un po' come il gioco il gioco è anche un po' il ragionamento adesso non andiamo troppo nella filosofia però ecco ricordatevi la libertà è un aspetto di grande responsabilità richiede molto 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 impegno ma noi non possiamo non essere liberi avendo questo privilegio è il nostro dovere per esserlo ci possiamo i frutti della libertà sono il fatto che ci formiamo le nostre opinioni in maniera libera le nostre sensibilità le nostre diversità e riconosciamo le diversità gli altri le apprezziamo e amiamo le diversità degli altri e nel confronto ci confrontiamo in maniera totalmente paritaria con gli altri con tutte le loro storie ma senza costrizione alcune senza alcun pregiudizio senza alcun ragionamento imposto dall'esterno ognuno con la propria sensibilità e ognuno con la propria onestà intellettuale e questo forse questo è veramente il grande gioco è veramente il gioco in cui noi siamo un po' coinvolti noi tutti e che dobbiamo giocare bene però essendo giocatori lo giochiamo facendo le nostre valutazioni in piena libertà perché senza libertà non c'è gioco senza gioco non c'è libertà le due cose le due cose sono insieme se qualcuno mi impone di fare una mossa in una certa maniera mi sta dicendo che non posso giocare se qualcuno mi impone di pensare in una certa maniera mi sta dicendo che non posso pensare pensare o non pensare giocare o non giocare scelte in positivo scelte in negativo è questo è veramente il privilegio e il peso della libertà però è qualcosa di bellissimo impegnativo di difficile ma bellissimo esattamente come il gioco scusate la fine mi sono lasciato un po' trasportare però sono argomenti che come potete capire veramente mi coinvolgono molto e spero spero di avervelo trasmesso e di avervi spinto a rifletterci un'unione in autonomia in uno con la vostra le vostre di nuovo personali opinioni poi parliamoci commentiamo confrontiamoci su tutto questo quando volete come volete quindi di nuovo nel rispetto reciproco che sono argomenti delicati ma è facilissimo andare così esagerare non lasciamoci trasportare serenamente ne parliamo senza difficoltà senza problemi io vi saluto qui come sempre vi ringrazio per avermi questa volta sì un pochino tanto seguito fino a questo momento vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata di cerco di cominciarli e ovviamente tutto quanto il resto del materiale che è tratto sul canale iscrivetevi al podcast seguitelo anche su youtube su blog su apple podcast insomma lasciate un po' di commenti di impressioni parliamone perché vedete parliamone 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 anche quella è un'espressione di libertà e quindi anche quella fa parte del gioco va bene io vi saluto qui e il nostro turno di guardia ormai si avvia a compimento ci saranno sempre come sempre tante altre tante altre novità sul canale e veramente che io spero di poter condividere che voglio condividere con voi e che appunto vedranno sempre il gioco come grande protagonista io vi saluto e come sempre il nostro turno di guardia finisce qui ciao a Grazie a tutti. Grazie a tutti.